Mi chiamo Leo Firavanti, ho 16 anni e sono un surfista professionista. Mi chiamo Leo Firavanti, ho 16 anni e ho 16 anni. Mi chiamo Leo Firavanti, ho 16 anni e sono un surfista professionista. E' un grande mix di tradizioni e di alta qualità. Tu e posso passare da un piacevole tempio alla pazzia di Sibuya. Mi chiamo i miei, gambe, restauro, karaoke, niente, comunque. Tocchio non ha sembranço. Ora voglio che lui venga in Italia e che rimanga impressionato da Roma. Questa per ora mi oggi fai passare a Italia. Grazie a tutti.